La pianta di asparagi. Cresce spontanea su tutto il territorio del centro-sud Italia. Impariamo a riconoscerla ed impariamo a raccogliere gli asparagi selvatici. Questa è una piccola pianta di asparagi. Vedete? La pianta è spinosa. Questo è un asparago. Gli asparagi si raccolgono così. Qui abbiamo un asparago. Questo va raccolto dalla parte più morbida, cioè non tirando con tutta la radice. Vedete? Anche qui ce n'è un'altra. La stessa cosa. Bisogna lasciare la radice in modo che nei prossimi anni si coltivano automaticamente, in modo selvaggio, in modo naturale. Con gli asparagi selvatici si possono fare ottime pietanze oppure conserve. Grazie. Grazie. Grazie.